Tutto pronto per la manifestazione in programma domani pomeriggio a Piazzale del Pincio sul biodigestore. La protesta è organizzata dalle associazioni ma parteciperà anche l'amministrazione comunale. Nel corso di una call conference i dirigenti della Tancò hanno confermato il grande interesse a trasferire parte delle loro attività alla mattonara ma spiegano di avere anche delle alternative. Sono trascorsi tre anni dall'inizio della raccolta differenziata porta a porta a Civitavecchia. Il bilancio è positivo con la città che è meno sporca rispetto al passato. L'amministrazione comunale in collaborazione con le cooperative Aga e Alice Nova ha avviato il progetto Trasporto e Sostegno dedicato agli anziani fragili. Ha riaperto ufficialmente i battenti ieri il Palagalli ma tra i pesanti costi di mantenimento e la mancanza di un consorzio sono tanti i dubbi sull'impianto comunale. Buonasera dal nostro telegiornale. I consiglieri di maggioranza e la Giunta hanno aderito convintamente alla manifestazione indetta da associazioni e comitati per le ore 19 di domani a Piazzale Guglielmotti. La presenza della gente da rafforza alle azioni che l'amministrazione intende intraprendere per imporre l'alta ad una scelta scellerata operata dalla Regione Lazio ignorando i pareri contrari e motivati espressi non solo dal sindaco tedesco ma anche dall'autorità sanitaria e dalla sovrintendenza archeologica riguardo il biodigestore. La popolazione partecipi alla protesta. Facciamo sentire il no al mega digestore fino a Roma così l'amministrazione comunale. Sentiamo uno stralcio dell'intervista al sindaco tedesco e all'assessore all'ambiente Manuel Magliani sulla protesta di domani che andrà in onda integralmente subito dopo il nostro telegiornale di stasera. Sentiamo. È stata organizzata una manifestazione proprio dai comitati ambientalisti che si terrà mercoledì 2 alle ore 19 sotto il comune. Noi parteciperemo in massa. Io mi auguro che i cittadini vengano in massa a protestare contro la Regione, a protestare contro chi non ha avuto il buon senso di interagire con un territorio, con un'amministrazione, con una città che è veramente stanca, stufa di dover subire queste situazioni che ti carano dall'alto e che evidentemente vanno a vantaggio per carità legittimo di chi propone ma che alla città portano assolutamente. Questo progetto chiaramente non è frutto di un'adeguata analisi del territorio perché sicuramente se fosse stata fatta un'analisi del territorio chi ha presentato questo progetto avrebbe capito chiaramente che Civitavecchia non era sicuramente la città in cui presentare un taglio di questo tipo. A di là della questione legata all'impiantistica in questione ma 120.000 tonnellate di frazione organica non sono assolutamente un progetto a dimensione di comprensorio. Quindi questo progetto dimostra una scarsa attenzione per il territorio, un progetto che ci è stato calato su un format ben predisposto che fa girare soltanto dei numeri a livello di piano di investimenti, di business plan ma non tiene minimamente in considerazione le esigenze di questa città e le pressioni ambientali che ci sono in questa città e in questo comprensorio. Anche il consigliere comunale di Ripartiamo dai cittadini Vittorio Petrelli esprime la propria opinione sul biodigestore. La situazione che stiamo vivendo, spiega Petrelli, dovrebbe richiamare tutti la Regione Lazio come la nostra amministrazione comunale e la comunità cittadina al senso di responsabilità e attenzione. Se in tema di rifiuti non sceglieremo noi, saremo destinati a subire quelle degli altri oppure dire no a prescindere. Se quindi la Regione Lazio non intende risparmiare una nuova servitù legata al trattamento e smaltimento dei rifiuti, afferma Petrelli, occorre agire in modo tale che si adottino scelte con il minore impatto possibile ma che servano il nostro territorio. Primi contatti della Tancò Iot, la società genovese in trattativa con la Conig Royalton per subentrare nel cantiere dell'ex privilege con l'imprenditoria Civitavecchese. Ieri pomeriggio ha avuto luogo una call conference nel corso della quale i dirigenti della Tancòa hanno confermato il loro grande interesse a trasferire parte della loro attività alla Mattonara specificando anche di avere comunque pronte alternative in altri porti del centro Italia. Sentiamo. Se non dovesse concretizzarsi l'ipotesi di Civitavecchia apriremo il nostro cantiere navale altrove perché da qualche parte dobbiamo realizzare gli yacht per i quali abbiamo ordinativi. È la frase pronunciata ieri pomeriggio da uno dei massimi rappresentanti della Tancòa Iot nel corso di una call conference con alcuni esponenti delle associazioni imprenditoriali cittadine. Nel corso della call i dirigenti della società genovese specializzata nella costruzione di mega imbarcazioni di lusso hanno confermato il loro grande interesse a trasferire parte della loro attività nell'area ex privilege alla Mattonara sottolineando al contempo che non possono comunque muoversi ufficialmente se non dopo aver concluso la trattativa con gli attuali concessionari i maltesi della Konig Royalton. Una trattativa che stando a quanto riportato dai rappresentanti della Tancòa sarebbe ormai addirittura d'arrivo visto che dovrebbero essere praticamente smussati gli ultimi aspetti relativi alla parte burocratica e a quella prettamente economica. La call conference oltre che ad avere un aspetto di carattere conoscitivo è servita ai rappresentanti dell'imprenditoria civita vecchiese per conoscere le reali intenzioni della società genovese. Al riguardo i dirigenti della Tancòa hanno spiegato l'interesse verso l'area ex privilege alla luce del successo che sta ottenendo la loro azienda che si trova a dover far fronte ad un numero importante di ordini per mega yacht di dimensioni comprese tra i 40 e i 75 metri. Non sono stati forniti numeri rispetto alle possibili ricadute occupazionali anche se da qualche parte si parla di una cifra di addetti compresi tra le 200 e le 400 unità divisi tra lavoratori interni al cantiere ed altri che opereranno all'esterno a fronte delle commesse ricevute. I prossimi giorni ci diranno se dopo tante delusioni il sogno della cantieristica civita vecchia sta veramente avverandosi o se viceversa la città avrà perso l'ennesimo treno. Altra giornata difficoltosa per la civita vecchia sotto il profilo covid. Asla Roma 4 e Regione Lazio annunciano nel consueto bollettino giornaliero che in città ci sono ben 197 nuovi casi positivi. Ancora una volta saldo negativo per la nostra città in quanto sono 85 le guarigioni nelle ultime 24 ore. E sono 110 mila invece i residenti del Lazio in età compresa tra i 30 e i 49 anni che non si sono ancora vaccinati. Lo ha spiegato ieri l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato che ha fatto il punto della campagna vaccinale sottolineando che tra coloro che non hanno ancora voluto ricevere il siero la classe di età più resistente è quella compresa tra i 40 e i 49 anni. Nel Lazio ci sono ancora più di 70 mila cittadini in questa fascia non vaccinati. Ha aggiunto che viceversa c'è stato un deciso recupero della fascia 50-59 anni dovuta all'entrata in vigore da oggi dell'obbligo dove attualmente risultano 40 mila per circa le persone non vaccinate. Anche nella fascia 30-39 ci sono ancora circa 40 mila non vaccinati. D'Amato ha poi il rilevato che va decisamente meglio con i ventenni dove risultano circa 15 mila non vaccinati. Abbiamo argomento nel febbraio del 2019 Civitavecchia inizia a sperimentare la raccolta differenziata porta a porta. Sono quindi trascorsi esattamente tre anni da quando in città è stato modificato il sistema di raccolta dei rifiuti da quello tradizionale, obsoleto e molto poco pulito, dei sacchetti conferiti nei cassonetti a quello attuale che ha praticamente fatto sparire l'immondizia dalle strade. Un bilancio di questi primi tre anni di differenziata nel nostro servizio. Sembra ieri eppure sono già trascorsi tre anni. Tre anni fa, all'alba del febbraio 2019, alcune migliaia di famiglie Civitavecchiesi iniziavano il loro rapporto diretto con la raccolta differenziata. Anzi, con la raccolta differenziata porta a porta. Quello che fino a qualche giorno prima era un sistema basato sulla pressoché totale anarchia con il conferimento dei rifiuti che poteva avvenire in qualsiasi ora del giorno e della notte all'interno di maleodoranti e a volte stracolmi cassonetti, diventava qualcosa di più civile, decoroso e soprattutto organizzato e igienico. Quello che inizialmente sembrava per molti un puzzle di difficile soluzione, ovvero come organizzare la raccolta domestica e il deposito giornaliero sotto l'abitazione nel corso di questi tre anni, è diventato una normale abitudine. Ne ha tratto giovamento soprattutto l'immagine della città che si presenta adesso sicuramente meno sporca rispetto a tre o quattro anni fa. Il non vedere in sacchi di immondizia di qualsiasi dimensione e cartacce che volano dai cassonetti ai marciapiedi rappresenta già un risultato importante. Certo Civitavecchia non può considerarsi alla stregua di Stoccolma, Edimburgo ed Helsinki, le tre capitali europee presenti nella top ten delle città più pulite al mondo, ma un deciso passo in avanti in termini di civiltà è stato innegabilmente compiuto. Poi in una fase storica nella quale lamentarsi e criticare rappresenta le pane quotidiano per molte bocche, che sarebbe meglio se restassero chiuse, la si può pensare diversamente. Il bilancio dei primi tre anni di differenziata, a nostro giudizio, è quindi positivo. Dove ancora si potrebbe e si dovrebbe migliorare, peraltro anche a vantaggio delle tasche dei cittadini contribuenti, è nella gestione della raccolta da parte dei singoli. Fino allo scorso mese di novembre CSPI raccoglieva circa 200 tonnellate di plastica al mese e 150 tonnellate di carta tra normale cartone selettivo. I quantitativi sono diminuiti nelle ultime settimane del 2021 a causa della ripresa della pandemia, ma in ogni caso può essere fatto molto, molto di più. In particolare per quanto riguarda la plastica, gli errati conferimenti determinano lo scarto di tantissime quantità, a tutto danno della collettività, perché sugli scarti non viene assicurato alcun corrispettivo e quindi si abbassano i possibili recuperi sulle singole fatture della tariffa rifiuti. La regola generale che vale per plastica, vetro e metalli è che si riciclano solo gli imballaggi. Gli imballaggi sono le confezioni, le scatole, le pellicole, le vaschette, le bottiglie, i barattoli, i vasetti, i flaconi che contengono, proteggono e consentono il trasporto dei prodotti che acquistiamo, mentre la plastica dura e voluminosa, come ad esempio sedie, tavoli da giardino e tubi, non sono considerati imballaggi e vanno pertanto conferiti all'ecocentro in zona industriale. C'è poi ancora una buona parte di cittadini che continuano ad usare erroneamente buste biodegradabili, che sono invece riservate all'organico per conferire la plastica. E le maglie del Consorzio Nazionale per la raccolta e il riciclo sono molto strette. Va ricordato ad esempio che le buste consegnate alle casse dei supermercati per trasportare la spesa sono tutte compostabili e biodegradabili e possono quindi essere utilizzate per conferire l'organico. Non vanno però usate per depositarvi l'indifferenziata. È evidente che una differenziazione attenta si traduce anche nel risparmio per il cittadino. Se la frazione conferita presenta delle imperfezioni e impurità, viene restituita a CSP e finisce direttamente in discarica come rifiuto indifferenziato, il cui costo va a finire direttamente sulle bollette dei cittadini. In caso contrario la municipalizzata ottiene un corrispettivo di carattere economico che poi si riflette positivamente sulle fatture a carico degli utenti. L'amministrazione comunale in collaborazione con le cooperative sociali Aga e Alice Nova ha avviato il progetto di pronto intervento Trasporto e Sostegno, un'iniziativa integrata del trasporto sociale cittadino dedicata agli anziani residenti nel comune di Civitavecchia con difficoltà anche sporadiche o temporane nello spostamento quotidiano. Il cittadino può prenotare la sua richiesta da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 fino al raggiungimento del numero massimo dei posti giornalieri disponibili. Sentiamo le interviste. Emanuele Amari e Cinzia Napoli parliamo di una nuova bella iniziativa che avete ideato che parte oggi, si parla di anziani fragili, un pronto intervento è così? Sì, è un servizio innovativo per il comune di Civitavecchia, fortemente voluto anche dal consigliere Massimo Boschini che se ne ha fatto promotore e l'idea subito è stata accolta con entusiasmo dal gruppo consigliere di Forza Italia, da me, dal sindaco e l'assessore l'ha messo subito in pratica. Quindi anche con pochissimi fondi siamo riusciti a far partire da oggi questo servizio che sarà un asilio agli anziani che soprattutto in questo momento con la pandemia che continua a imperversare nella nostra città hanno bisogno di un aiuto sia per i farmaci che per la spesa ma anche per visite mediche e quant'altro. Quanto fa piacere portare avanti queste iniziative e quanto è importante per in questo caso gli anziani più fragili? Molto importante come potete ben immaginare. Abbiamo iniziato questo percorso più di un anno fa lo stiamo proseguendo con questa azione che ci mancava. Abbiamo voluto quindi mettere tutte le nostre risorse, la collaborazione con Aghe e Alice Novo che hanno presentato un bellissimo progetto tra l'altro già attivo in parte a Tarquinia. Quindi noi sul nostro territorio abbiamo voluto estendere questa possibilità per tutti questi anziani fragili, coloro che non hanno una buona rete di sostentamento. E consiste proprio nel fatto e nella possibilità che queste persone o chi per loro magari i vicini possano comporre un numero telefonico che sarà pubblicizzato attraverso volantinaggi e vogliamo appunto spandere questa possibilità dai medici di famiglia alle farmacie e tutti quelli che sono i luoghi di aggregazione maggiori. Telefoneranno, presenteranno il loro bisogno rispetto ad esempio al dover effettuare una visita clinica, già che hanno prenotato loro perché sapete che per privacy noi non possiamo entrare in questo. Ci sarà dall'altra parte una persona preparata che programmerà poi l'intervento, andrà presso il domicilio della persona, la preleverà, lo accompagnerà, come diceva la Presidente, per i farmaci, l'accompagnerà per la spesa qualora ce ne sia bisogno e sappiamo anche adesso quanto ancora c'è questo prolungamento purtroppo di questa emergenza e c'è il connubio con Alice Novo che invece curerà quella parte più sociale rispetto alla solitudine a questi anziani che sono soli, quindi si potrà avere un supporto anche sotto questo punto di vista. Devo dire che l'amministrazione tutta è stata unita in questa promozione, devo dire che il consigliere Boschini e la Presidente hanno fortemente voluto questo progetto insieme e abbiamo trovato il modo di realizzarlo. Un piccolo passo che però secondo me dà veramente il segno della volontà di seguire le persone, soprattutto quelle fragili. Occhio sulla città puntato sulla zona di Borgo De Scalchi. In particolare le telecamere hanno ripreso la scalinata che porta alla piccola terrazza sul mare, ormai distrutta più in generale. Si è fatta una panoramica dell'area. Il servizio. Siamo tornati a Borgo De Scalchi, nella gradinata che conduce alla piccola insenatura due spiaggette veramente molto sassose, poco sabbiose a dire il vero. Bene, mentre volevamo rilevare un po' la situazione in cui versa la gradinata con le parti in legno che sono estremamente lugore e stanno cedendo in alcuni punti sono rotte e quindi pericolose per chi le frequenta, ebbene ecco qui abbiamo appena appoggiato la mano e ops, ecco qui questo per fortuna è capitato a noi, però poteva capitare a qualcun altro e magari ferirsi o cadere in avanti. Ebbene questo va sistemato chiaramente. Questo è pericoloso, anche questo può essere pericoloso basta appoggiare male il piede e andare a cadere a faccia in avanti. Qui addirittura la parte superiore della stagionata non esiste più. Ecco, noi siamo arrivati alla spiaggetta. Bene, è un luogo molto affascinante e viene già frequentato da varie persone perché cercano un minimo di tranquillità a due passi dal centro tutto sommato. Ecco, per renderlo più vivibile, più godibile, basterebbero pochi accorgimenti. Intanto forse qualche cestino in più che andrebbe certamente ritirato e forse ripulito con una certa frequenza. Quindi questa parte è accessibile e certamente molto frequentato durante la bella stagione. Molto più difficile è arrivare a mare da quest'altro lato, il lato destro bene della gradinata. Perché? Perché sembrerebbe quasi che la parte della nostra destra sia lentamente scivolando verso mare e ne sono testimonianze ai massi che sono stati poi chiusi con una recinzione. Ecco, non può essere facile scendere per chi vuole raggiungere la spiaggia. Basterebbe forse un intervento da parte del comune e dei lavori pubblici per consentire di fare una specie di scivolo verso mare. Dalla spiaggetta di Borgo di Scalchi siamo passati a Via Tonda Revelle e volevamo evidenziare una situazione a dire il vero un po' paradossale. Sono stati effettuati dopo tanto tempo finalmente dei lavori di ripristino del bordo di alcune aiole che ospitano delle palme veramente vecchie di anni, di decenni potremmo dire. Ebbene, un bel lavoro è stato fatto perché finalmente si è sanata una situazione veramente deturpata, però come spesso accade le cose vengono lasciate incomplete e allora scoperte le radici di queste palme molto belle, molto vecchie andrebbe messa naturalmente alla base della terra, della terra che consente poi alle radici di poter respirare ma naturalmente senza essere soffocate e senza bruciarsi con i raggi del sole alle intemperie. Ma non solo questo, ecco possiamo vedere che sono state lasciate qui le mattonelle. Non si capisce perché. Si è fatto dell'ottimo lavoro, va completato. Basta allora un appello al comune. Si può intervenire e finire l'opera? Certamente merita. È una bellissima passeggiata, oggi è una giornata molto bella e che mette in evidenza queste piccole mancanze. Recuperiamole, si può. E il Ministero dell'Istruzione in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e delle connesse difficoltà familiari al fine di agevolare il più possibile l'iscrizione di tutti gli studenti con l'utilizzo della procedura di iscrizione online ha disposto la proroga del termine per le iscrizioni già precedentemente indicato. Pertanto l'ufficio pubblica istruzione comunica che è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle istanze di iscrizione alla scuola dell'infanzia comunale i bambini di Beslan per l'anno scolastico 2022-2023. Le istanze possono essere presentate fino alle 20 del 4 febbraio del 2022 con le stesse modalità già indicate in precedenza. Tutte le informazioni sul sito del comune di Civitavecchia. Apriamo la pagina sportiva parlando di impiantistica. Il Palagalli è tornato a riaprire i battenti nella giornata di ieri, questa volta con la gestione affidata esclusivamente almeno per il momento alla NC Civitavecchia. Ma sono numerosi i dubbi che si addensano sulla gestione e di la futuro dello stadio del nuovo il servizio. Un piccolo spiraglio di luce in mezzo alla tempesta con la speranza che possa presto arrivare l'arcobaleno. Ci riferiamo alla situazione del Palagalli che ieri ha riaperto ufficialmente i battenti dopo essere stato chiuso per quasi tutto il mese di gennaio. La NC, che gestisce la struttura, ha stipulato i nuovi contratti per gas e luce, procedendo quindi alla risistemazione. Una notizia che fa felici sicuramente le società di pallanuoto, in particolar modo NC e Coser, che nel prossimo weekend, incrociando le dita, saranno in acqua per le partite di serie A2. E si tratta di una notizia che fa felici anche le persone che frequentano l'impianto, anche per fare semplicemente qualche lezione di acqua gym o una notata quando il tempo lo permette. Sicuramente ha dimostrato coraggio la NC, che nonostante i mille problemi legati alla struttura, si è aggiunta la gigantesca sfortuna per quanto accaduto al presidente Manrico Tombolelli. Alla società Rosso Celeste vanno i migliori auguri, perché non è sicuramente facile prendere una decisione del genere in questo momento. Ma purtroppo ci sono ancora molti dubbi riguardo il Palagalli. Si tratta di una nuova apertura che sarà stabile nel tempo? Oppure c'è il rischio che, come accaduto tra Capodanno ed Epifania, si possa assistere ad una nuova chiusura nel giro di poco tempo, considerando anche i pesanti costi per il mantenimento dell'impianto? Visto che la Nautilus Sport, indicata come possibile partner per la creazione di un nuovo consorzio, ha annunciato che non ha intenzione di entrare a farne parte, cosa succederà? L'NC riuscirà da sola o in compagnia della società Sport Natatori Città Civitavecchia 1950 a gestire il Palagalli? Un altro tema da affrontare è la ripartenza delle attività commerciali, come si legge nei post pubblicitari dello Stato del Nuoto, cosa che invece non era avvenuta in occasione della riapertura con il consorzio GIS lo scorso settembre. Un dato che mette in primo piano le tesi di chi sostiene che l'attività commerciale non fosse ripartita per un accordo tra gentiluomini, evitando concorrenza tra i corsi del Palagalli e quelli delle piscine della COSER. Uno scenario che non si ripropone più a causa della separazione delle strade tra gialloblu e NC. Tutto ciò corrisponde al vero, oppure si tratta di pensieri del tutto infondati? Ma andando oltre questi dubbi, la cosa più importante in questo momento è lavorare per far rifiorire il Palagalli, un impianto che deve tornare ad essere visto in chiave positiva, anche in ottica europea e di nuoto, probabilmente l'evento di punta del 2022, in quanto c'è il serio rischio che i mondiali vengano rinviati al 2023, causa Covid. Calcio, si separano le strade della Civitavecchia e del difensore Edoardo Scardola. Il giocatore ex Bomezia non ha convinto in pieno, dopo essere stato uno degli acquisti top delle state scorse, la società ha così deciso di lasciarlo libero e di trovare un'altra squadra. Civitavecchia che adesso dovrà però fare ricorso al mercato e chiuderà il 10 febbraio per trovare un sostituto. Intanto la squadra di Massimo Castagnari è tornata in campo domenica nell'amichevole disputata allo Scopone di Tolfa. Tante le indicazioni positive per i Nerazzurri che hanno vinto 4-0 grazie alla doppietta di Ruggero e ai gol di Cerroni e Pippi. Un buon viatico in vista dell'importante match di domenica prossima, quando il Civitavecchia farà visita alla V3 Maccarese nella seconda giornata di ritorno del campionato di eccellenza. Palannuoto ricomincerà sabato prossimo il campionato di Serie A2 per la NC Civitavecchia, questo quanto deciso dalla FIN che non interromperà nuovamente la caratteria dopo lo stop del mese di gennaio a causa del Covid. Il torneo riprenderà dalle giornate previste in origine, dei turni rinviati che saranno recuperati successivamente. Il primo si giocherà il 12 febbraio, mentre gli altri saranno disputati a regular season originale terminata. Nello specifico per sabato è previsto l'incontro della NC al Palagalli contro l'Acqua Chiara, diversa la situazione della COSAR. Al momento la FIN non ha diramato nessun atto ufficiale per la partenza della stagione nella nuova data prevista, ovvero per domenica prossima. Difficile ipotizzare che questa rata possa essere rispettata, il via potrebbe essere nuovamente posticipato. Nel caso fosse confermato ci sarà da capire se ci saranno modifiche anche alla formula del campionato. Winsurf si è chiusa con molta soddisfazione ma anche con un pizzico di amarezza all'esperienza di Luca Di Tomassi alla prima tappa dei giochi internazionali di Lanzarote. Il più giovane del gruppo della Lega Navale si è fatto valere nella prima uscita stagionale collezionando un discreto quattordicesimo posto. Come detto c'è un po' di amarezza perché a causa di un calo di prestazione nelle ultime regate ha mancato la gancia ai primi dieci e quindi l'accesso alla giornata conclusiva. Inizio pessimo per Daniele Benedetti, partito in fondo alla flotta e andato in crescendo. L'atleta delle Fiamme Gialle ha chiuso al quarantesimo posto dopo aver superato 30 avversari. Ancora mancanza di ambientamento per Mattia Camboni nel foil. Per lui è arrivato un cinquantatresimo posto. Chiudiamo con il karate. Domenica scorsa si sono svolti nella palestra Carducci di Santa Marinella i campionati regionali Umbria e Alto Lazio della FIC, valevoli per accedere alle finali nazionali di karate nella specialità Cata. Gli allievi della Mexicana di Civitavecchia allenati dalla maestra Virginia Pucci hanno ottenuto tre medaglie d'oro con Barletta, Caruso e Agugliaro, due argenti da Giammusso e Boscolo e ben nove bronzi con Diassise, Feoli, Sansonetti, San Giovanni, Edoardo e Scala, Doro con Valente e Mellini. Bene, era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di lasciarvi vi ricordo che dopo la sigla andrà in onda la nostra rubrica meteo a seguire lo spazio con Comune Informa con l'intervista al sindaco tedesco e al vice sindaco Manuel Magliani sul biodigestore ma anche su altri temi che riguardano l'amministrazione comunale in vista della manifestazione in programma per domani alle 18.30 sotto Palazzo del Pincio. A seguire ci sarà la trasmissione Sentiamo la Sua con Giampiero Romiti e con ospite il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Enzo Dantò. Grazie ancora, a presto. Grazie ancora, a presto.